La birra di oggi è ancora una neipa ed è ancora italiana e stiamo parlando della Evoque Sour numero 2 Allora, vediamo subito la scheda tecnica di questa New England IPA il produttore Evoque, birraificio italiano siamo in provincia di Padova La birra in questione è la Evoque Sour numero 2 è una neipa, una New England IPA 5,5 gradi il tasso alcolico di questa birra ora non so dirvi il prezzo perché in questo momento l'ho spillata direttamente dalla spina il bicchiere che vi consiglio è una pinta anche se qui è un bicchiere un po' più piccolo ma poi vi spiegherò perché e non si tratta di un primo assaggio come dicevo appunto non ho qui una pinta classica inglese ho una mezza pinta, un bicchiere più piccolo la famigerata birra piccola e poi a fine video spiegherò perché ho fatto questa scelta però in generale direi come bicchiere per questa birra un bicchiere aperto come le pinte possono andare più che bene sono le birre perfette per questo stile che ricordiamolo sono comunque delle IPA quindi delle birre anglosassoni allora due parole sul birrificio siamo vicino tra l'altro al birrificio crack dove ho fatto un video poco fa appunto su un'altra sempre neipa sempre sulle neipa abbiamo parlato anche in quel video le New England IPA queste IPA molto juicy, molto succose, molto torbide molto tropicali la particolarità di questa Evoque Sour come suggerisce il nome è appunto anche un filo acida quindi stiamo parlando sempre di una neipa ma un pochino più acida direi di fare l'analisi sensoriale anche perché si sta già smontando completamente la schiuma la schiuma è molto fine molto molto regolare purtroppo appunto è poco persistente infatti si è già smontata quasi completamente il colore è bianco e appunto la texture è molto regolare la birra come tutte le New England IPA sono birre molto torbide infatti anche in questo caso è un giallo spento molto torbido e davvero non si riesce a vedere attraverso passiamo al naso allora il naso di questa birra è molto interessante perché davvero c'è un tropicale un'intensità fortissima di frutta tropicale in particolare secondo me si sente molto bene gli agrumi ma ancora di più si riesce davvero a sentire il profumo di pompelmo forse perché il succo di frutta al pompelmo è uno dei miei preferiti ne ho consumato tanto soprattutto in passato e quindi appena ho versato questa birra però ho subito il mio cervello richiamato alla mente proprio il profumo del succo di frutta al pompelmo e quindi mi ricordo tra l'altro anche una birra una IPA di Brewdog credo fosse la Elvis Juice che ha un'infusione di pompelmo e ha questo profumo fortissimo è spiccato e netto di pompelmo proprio appena ancora avete aperto la bottiglia ancora prima di versarla già si sente questo profumo e anche qui spicca subito questo pompelmo molto forte c'è anche una parte agrumata devo dire che allora siccome questa birra è alla spina e purtroppo non nell'attività dove lavoro non sta andando velocemente quanto immaginassi è già qualche giorno che è collegato il fusto questo è una delle ultime pinte che riuscirò a fare perché ormai è finito e rispetto al fusto appena aperto ho notato che è cambiata è cambiata non so se in meglio o in peggio forse è diminuita l'intensità della parte tropicale adesso però riesco a sentire un pochino anche tutta una parte dei luppoli resinosi che prima non sentivo e mi dispiaceva perché appunto si sentiva solo e soltanto questo fortissimo aroma tropicale mentre adesso si sentono anche dei luppoli un po' più classici per così dire un po' più continentali ed è molto interessante che almeno si senta una complessità maggiore a discapito però certo un calo di intensità della parte tropicale vediamo come è in bocca allora è una birra particolare perché rispetto alle ammetto poche altre neipa che ho assaggiato il tono sour si sente molto si sente questa acidità che è abbastanza importante allora per quanto riguarda le sensazioni che sentiamo in ordine l'apertura non è particolarmente cioè il malto non si sente particolarmente anzi arriva quasi subito questo amaro e arriva anche subito questo questo acido direi un acido lattico anche se non capisco come mai non è indicato sul fusto come componenti la presenza o la rifermentazione con l'attobacilli o comunque la presenza di acido lattico probabilmente non è necessario indicare se sono stati poi aggiunti anche dei lattobacilli però c'è chiaramente una nota acida piuttosto forte ed è un acido che va chiaramente verso il lattico oltre a questo acido c'è questo amaro abbastanza abbastanza persistente e abbastanza intenso e poi sul retrofatto ritroviamo un po' di questo tropicale non eccessivamente intenso soprattutto non è molto persistente il tropicale confrontato con l'intensità invece molto elevata che c'è invece nel naso persiste questo acido che insieme all'amaro è una sensazione un po' particolare secondo me e secondo me decisamente sbilanciata verso l'acido è una neipa un po' particolare sicuramente devono piacervi le birre acide questo senza dubbio ma deve piacervi questo tipo di acido rientro un po' in queste birre funky molto moderne che vanno di moda oggi mi viene in mente Tuol ha fatto prodotti del genere su questo canale se non erro c'è la Amarillo credo di Tuol è una birra sempre molto funky molto acida con lupoli e amarillo e comunque siamo in quella direzione quindi queste birre un po' moderne che secondo me devono piacervi perché l'acido e questo amaro così forte sono un mix che non a tutti potrebbe piacere soprattutto in questo caso secondo me è sbilanciata verso l'acido il motivo per cui infatti l'ho versata in una birra in una pinta in un bicchiere piccolo in una mezza pinta è proprio perché secondo me questo è un tipo di birra in cui io personalmente faccio fatica a bere un bicchiere intero e siccome dopo il video poi le birre ovviamente me le bevo una pinta forse non sarei stato in grado di berla tutta perché è una birra che secondo me stanca un pochino non è detto che sia così per tutti perché c'è gente che adora invece questa iva molto acida e invece riesce a berle bene va appunto secondo me essenzialmente a gusti altre persone non riuscirebbero a concludere una quadrupe per il tasso alcolico per la complessità eccetera cose che io mangerei tutti i giorni e dico mangerei perché certe quadrupe hanno una consistenza davvero da masticare che dire secondo me appunto la birra di per sé è molto interessante non è perfettamente equilibrata anzi la trovo molto sbilanciata verso l'acido e che mi rovina un po' tutto il resto però ripeto è volutamente così acida e quindi deve piacervi il genere devono piacervi queste birre un po' un po' funky come vengono chiamate dai colleghi anglosassoni e dai beer geek se vi piace il genere sicuramente è perfetta perché questo profumo tropicale è fortissimo e può attrarre molto di per sé non è appunto particolarmente complessa è leggermente sbilanciato questa è la mia impressione su questa Evox Out Scala Grazie a tutti Grazie per la visione!